Non so cosa gli è successo quest'anno. Non lo so, gli è stato infuso qualche gene di Freud durante la notte da qualche alieno. Quest'anno vedete un mica inedito. Un po' Freud e un po' Luciano Onder. Aiuto. Tu hai il braccio così per proteggerti? Perché secondo me non sei sicura sul palco. No. Perché hai paura? Non lo so. C'è qualcosa che tu non hai detto. Freud, mi sai che hai sbagliato. Io non ho potuto entrare dentro di te. No, non è che tutti proprio... Quest'anno Mika è molto forte. Sì, sì. Perché hai avuto paura? Non sono riuscito a somatizzare il brano e dunque... Sapevo che questo era materiale perfetto per il giudice Mika Freud. Ci tiene molto a capire i problemi della vita dei concorrenti. C'è un bloc, c'è una sorta di bloc qua... Che cerca di risolverle in dieci minuti al tavolo. Sempre più maturo. Grazie. Perché? Ma smettela! Ma tu devi aprire uno studio di psicanalisi per i cantanti. Noi siamo i prodotti delle nostre scelte. Piccolo Freud. Io posso mettere, come, la tippa? Sì, potresti metterle la pippa. Piccolo capello. Tu non sei sicura di ti stesso. Non è facile avere una personalità un po' fragmentata. Mi dispiace, è un no. Anche per me è un no, mi dispiace. Anche per me è un no. Mi dispiace, ciao Akila. Grazie. Alla prossima seduta. Ma io sono triste per questa notte. Dica, non siamo un cento... Precubro. Che ha fatto? Fatto, fatto. No, 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 no. Adesso, facendo la foto così. Guarda, che ha fatto? Ah, stronzo di merda, che ha fatto? Psicologo. Tu devi andare a un psicologo. Tu devi andare a un psicologo.